C'è il sole, c'è i turisti, sta andando abbastanza bene, speriamo che vada meglio. Bene, c'è il sole, oggi c'è il sole, fortunatamente. Un'edizione primaverile baciata dal sole, quella di aprile della fiera antiquaria di Arezzo. Baciata dal sole, sì, senza dubbio, ma soprattutto baciata da una presenza cospicua di espositori, abbiamo 232 espositori, pochissimi assenti, nonostante qualche concomitanza che comunque, come dire, ci gioca contro, una bellissima fiera, pochissimi posti vuoti, siamo arrivati quasi a Piazza della Padia, abbiamo quasi sfatato questo mito, quindi siamo molto contenti. Abbiamo proprio scelto di venire ad Arezzo perché sapevamo che c'era il mercato, ma anche perché ci mancava nelle nostre gite, poi sempre la Toscana è sempre molto bella. Abbiamo anche un'ottima percentuale di occupazione degli alberghi, abbiamo molti stranieri, sì, molti stranieri, ma già da qualche giorno, quindi si prospetta un bellissimo weekend. Tra i banchi degli espositori sia turisti che retini appassionati o più semplicemente curiosi. Gli stranieri sono molto molto curiosi di tutto ciò che è made in Italy, quindi dalla piccola oggettistica, i quadri, le ceramiche, tutto ciò che rappresenta l'Italia. C'è una forte componente cinese e dell'estremo oriente giapponese e anche indiana. Di noi, del mercato nostro interno, piacciono le cose un po' più vecchiotte, un po' più antiche, c'è il gusto di andare alla scoperta, di fare la truvaio. Un po' di tutto, oggetti, quadri, mobili, si devono ridare delle case così che hanno comprato qua, gli turisti e stranieri speriamo che acquistino, di solito si lavora bene. Tra le collaterali di questa edizione della Fiera Antiquaria, l'apertura domenica 7 aprile delle porte del Museo di Porta Santa Andrea. Arricchisce il programma di questo fine settimana, ripeto, già con la Fiera è un pezzo avanti perché la Fiera è un asset, ripeto, imprescindibile per questa città e per quanto riguarda l'afflusso di presenze in città. Quindi bene, molto contenti, un ottimo lavoro, evidentemente la promozione che continuiamo in perterriti sulla Fiera evidentemente paga.